Saranno Lucchese-Legnago e Pescara-Sestri-Levante ad aprire il turno numero 14. I toscani proveranno a vincere la prima partita interna. Ad oggi è una grossa mancanza per la squadra di mister Giorgio Gorgone, mentre la capolista Pescara cercherà la decima vittoria in 13 partite contro i Liguri del Sestri, in attesa di recuperare quella contro il Milan futuro giovedì 21 novembre. Esame per la Torres in casa del Rimini e Entella contro lo scorbutico Gubbio, mentre i riflettori della giornata sono puntati al derby tutto Umbro tra Perugia e Ternana con il neotecnico perugino Zauli che sogna l'impresa di battere i più quotati con regionali. Il Campobasso si sta preparando alla lunga trasferta di Carpi, dove come al solito non sarà da solo ma accompagnato da ben 400 tifosi al seguito su una capienza di 500 posti, altra grande migrazione di massa alla volta dell'Emilia-Romagna, non proprio una passeggiata e l'ennesima riprova di un attaccamento sempre crescente alla causa da parte della tifoseria. Rosso-Blu, i numeri sono aggiornati a questa mattina e non è detto che non subiscano degli incrementi. Il tecnico Braia snocciola elogi in conferenza per alcuni dei suoi calciatori, fra i più giovani. Quelli che stanno giocando ora in questo momento Mancini, ragazzo del 2005, che secondo me ha delle ottime possibilità di poter fare una buona carriera, ma poi dipende da lui, come tutti. Per l'Itteri sta facendo bene, molto bene. Serra sta facendo bene, a volte è quello un pochino più sacrificato, diciamo. Però, ragazzo, non lo conoscevo e devo dire che è uno di rendimento continuo e costante, anche se lo faccio giocare poco, lui lo sa. Poi Bigonzoni, e Bigonzoni è una scheggia impazzita. Bigonzoni è uno che ha un passo diverso dalla C, passo diverso dalla C e potrebbe fare molto di più. I risultati positivi di questo campo basso sono anche figli di un grande gruppo che si è rinsaldato con il passare del tempo. Il tecnico non esita a rimarcarlo. Ho il dovere di preservare un gruppo che sta nascendo, perché tre mesi che stanno insieme, si vogliano bene, perché basta vederli, fanno una cosa a uno e vanno tutti insieme. Se c'è fosse uno o due che gli stanno sullevele dei maroni, non ci vanno, invece ci vanno tutti insieme, si aiutano, si danno la mano. Iniziare a caricarli di responsabilità, bisogna vincere qua, è la prima volta, è la prima volta, ne buschi subito, ne buschi subito, perché funziona così. Gli devi lasciare tranquilli, devono fare il massimo di quello che possano fare in questo momento e basta. Questo gli si può chiedere, di dare l'anima per questa squadra, per questo ambiente, per la gente che ci viene a vedere, ma non li carichiamo di responsabilità. Io non so se sono in grado di prendersi delle responsabilità. Qua noi giochiamo con 2005, 2004, 2003, 2002, e che vogliamo? Facciamo minutaggio. Poi a tutti piace sognare, non è che a noi non ci piace sognare, ma bisogna stare zitti, bisogna pedalare. Braia rispetta molto il Carpi, una squadra da prendere con le pinze, altrimenti parole sue rischiamo di prenderle di santa ragione. L'allenatore non ha risparmiato ringraziamenti alla società Rosso Blu, che ha consentito la partenza in treno a squadra e staff domani mattina alle 11.30 dalla stazione di Termoli. Una maniera molto più comoda e rapida rispetto ad un percorso in Pullman. Serio rischio, oppure chiamiamola quasi certezza, che Campobasso, Milan, Futuro, slitti al 5 dicembre prossimo, il che renderebbe il mese di novembre abbastanza sfalsato per il Rosso Blu, che rigiocheranno al Molinari la prossima, dopo la vittoria scorsa contro la Lucchese, esattamente il primo dicembre contro il Rimini.